Sì, è proprio un cantiere, ho usato il termine giusto. Purtroppo siamo partiti in netto di tardi, la società è stata acquistata una settimana fa. Abbiamo tante problematiche, però cerchiamo di portare avanti il lavoro con serietà, con professionalità, cercando di entrare nei tempi per quelle che sono purtroppo le nostre partite iniziali di Coppa Italia. Quindi ci prepareremo più per il campionato che non per queste partite, anche perché materialmente proprio non ce la facciamo. Diciamo che dobbiamo fare la squadra, non è che la rosa non è ancora completa, dobbiamo fare la squadra, quindi abbiamo pochi elementi, abbiamo chiamato tutti quelli che purtroppo erano anche a contratto del Milazzo, però dobbiamo fare tutta la squadra, quindi contiamo su qualche elemento, dobbiamo vedere gli altri, quello che ci possono dare, quelli che erano a contratto, dopodiché col presidente, col direttore, con tutti quanti penseremo al mercato, soprattutto loro, dobbiamo pensare al mercato e io a mettere in campo una squadra che ci possa inizialmente far fare una figura sufficiente. Ai miei tifosi prometto l'attaccamento alla maglia, prometto il sacrificio, prometto che io mi sento più sudista che nordista, in virtù di vivere anche in una città, Livorno, dove è una città molto molto sudista, pur essendo in Toscana. Quindi prometto che tutti suderemo per onorare la maglia al Milazzo, che è una piazza che si merita senz'altro tanto sacrificio. Io credo che con Valter abbiamo giocato insieme, prima di tutto la Fiorentina da ragazzi, abbiamo fatto il percorso un po' insieme. Poi è venuto a Livorno, io ero già a Livorno con Spinelli, è arrivato là, abbiamo lavorato insieme, è stato un anno anche vincente nella Serie B, è un allenatore secondo me uno dei più bravi che ci sono in questo momento, quindi accostarmi a lui non mi sembra proprio che sia una cosa da fare. Posso dire che abbiamo un carattere molto simile, nel senso che siamo sanguigni, siamo gente che sputiamo il sangue in campo, cerchiamo di farlo sputare anche ai calciatori perché è giusto che diano tutto quello che hanno fino al 96esimo, questo è quello che ho rizzato. Poi naturale la filosofia di calcio è un po' la solita, sia per l'intensità sia anche per come fare un calcio propositivo. Poi certamente i moduli purtroppo certe volte sei costretto a farne altri perché il materiale è quello che ti porta a fare. Però ecco diciamo che ci confrontiamo, ci sentiamo spesso con tutto lo staff e diciamo che lavoriamo un pochino in sintonia anche con programmi simili. Però certamente lui allenava Vezzi e io allenava, adesso c'è Cavani e io ancora devo capire chi devo allenare.